E' tornata la stagione dell'Arezzo Nascosta, la rassegna musicale targata a Oida con un primo appuntamento con il trio Contro il Tempo, nella sede dell'azienda Orafa 1R che ha aperto le porte al pubblico con una visita guidata al Museo dell'Oro. Ed è l'unico museo dedicato all'Oroficeria in Italia, per noi rappresenta davvero un motivo di orgoglio e anche in qualche modo un simbolo di quanto la nostra azienda è legata al territorio, addirittura qui si parla dell'anticolo popolo etrusco dal quale comunque abbiamo origine e si ripercorrono 100 anni di storia. Cinque in tutto saranno le tappe del percorso della stagione, dove le formazioni da camera suoneranno in spazi a volte inusuali ma sempre con un messaggio di bellezza, curiosità e scoperta. Il trio Canto, Violoncello e Pianoforte ha portato in scena il concerto Viaggio Originale tra le più belle melodie del mondo. È un'idea particolarissima che ci ha coinvolto molto perché non esistono in realtà formazioni come la nostra, soprano, violoncello e pianoforte e soprattutto non esiste repertorio. Proprio per questo molti compositori hanno deciso di trascrivere per noi alcune tra le più belle melodie del mondo che veramente vanno dalla Francia all'America, Cuba all'Argentina all'Italia stessa. È un viaggio emozionante con sonorità completamente nuove. E poi noi però siamo state, diciamo, brave a riunirci, a lavorare insieme, a trovare questa sintonia. Ci siamo anche divertite molto. E la soddisfazione più grande è farlo all'interno di una formazione tutta il femminile. Anche questa è una cosa abbastanza singolare e soprattutto è singolare andare molto d'accordo insieme tra artisti.